Imponevano il pagamento del pizzo ad un imprenditore che sta effettuando i lavori di posa della fibra ottica se le persone restate nell'ambito dell'operazione capolinea eseguita nella notte dalla squadra mobile di Enna in collaborazione con quella di Catania. In manette sono finiti esponenti della famiglia mafiosa di Enna e dei clan catanesi Santa Paola Ercolano e Cappello Bonaccorsi che avrebbero imposto il pagamento della tangente ad un imprenditore ennese che svolgeva lavori nel Siracusano e nel Catanese ed in alcuni quartieri dal capoluogo Etneo. Gli indagati sono i catanesi Giuseppe Calogero Balsamo di 58 anni, Salvatore Antonio Medda di 54 ed Angelo Tomaselli di 52, gli ennesi Salvatore Ladelia di 67 anni ed Edoardo Mazza di 46 ed il calatino Antonio Privitelli di 34 anni. Sarebbero stati i referenti della mafia catanese in accordo con un esponente della famiglia di Enna a convincere l'imprenditore a sottostare all'estorsione e a non sporgere alcuna denuncia. L'estorsione sarebbe stata proseguita se non fosse stata bloccata dall'arresto degli indagati che avevano già prospettato azioni violente qualora la vittima dell'estorsione non avesse pagato. L'ordinanza d'arresto è stata messa dal GIP di Calzanissetta su richiesta del Pubblico Ministero Roberto Condorelli, titolare dell'indagine della Procura Distrettuale Antimafia Nissena. Secondo quanto appurato dagli inquirenti, l'interesse di Cosa Nostra Ennese è tuttora rivolto proprio alle estorsioni. L'anello di congiunzione tra le famiglie di Enna e di Catania sarebbe stato proprio all'Ennese Ladelia, già condannato per mafia, che assunto dall'imprenditore vittima avrebbe permesso a quest'ultimo di effettuare lavori in alcune zone del Catanese e della Siracusano, governati dai clan Santa Paola Ercolano e quello dei Cappello Bonaccorsi. Sarebbe stato sempre Ladelia, al quale l'imprenditore si rivolgeva per qualsiasi problema che avveniva nei cantieri, a consigliargli di mettersi a posto pagando il pizzo che andava da 600 a 8 mila euro. E a Gela i carabinieri del reparto territoriale hanno arrestato un ragazzo di 29 anni per detenzione ai fini dello spaccio di droga nella sua abitazione. I militari dell'arma hanno rivenuto una quindicina di grammi di cocaina, in parte già confezionate in dosi. Sequestrato tutto il materiale per la pesatura, il taglio ed il confezionamento della droga, oltre a circa 1.700 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuto provento dell'attività illecita.